Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca nel lab vaccinale di Catania. Ho ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca naturalmente e sono contento di essere entrato anch'io nel novero dei siciliani che si avviano verso la totale immunizzazione. Spero questa mia idea, questa mia azione possa essere condivisa da quanti si trovano nelle mie stesse condizioni. Stiamo combattendo battaglie durissime per abbassare l'età dei cittadini ammessi al vaccino, siamo finalmente arrivati anche nelle isole minori, andiamo avanti perché dobbiamo uscire prima possibile da questo tunnel e sono convinto che ce la faremo.